Il generale di divisione Giuseppe Gerli è il nuovo comandante della legione allievi della Guardia di Finanza di Bari. La cerimonia di passaggio di consegne si è svolta nella caserma Alberto De Falco e Antonio Sottile alla presenza dell'ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di Finanza e il generale di corpo d'armata Carlo Ricozzi. Il nuovo comandante che subentra il generale di brigata Gianfranco Carozza che aveva assunto l'incarico nel settembre 2020 ha parlato anche di fondi del PNRR destinati alla formazione. L'erogazione di fondi che saranno spesi con il PNRR è un tema fondamentale che non può sfuggire alla nostra attività di formazione e specializzazione, ha detto Gerli. Si tratta di formare giovani futuri finanzieri, la Guardia di Finanza è un moderno corpo di polizia economico-finanziaria che è il compito della tutela del bilancio dello Stato, dell'Unione Europea, delle Regioni e la Polizia del Mare e del Soccorso Alpino. Questi ragazzi devono essere in grado di rispondere a tutte queste sfide perché è questo che da noi si aspetta la comunità dei contribuenti, dei cittadini e dell'imprenditore onesti, ha concluso Gerli.